Le mie facoltà non hanno niente a che vedere con la magia, le manifestazioni esoteriche, la divinazione del futuro. Questa è la telepatia. Sento i pensieri nel momento in cui nascono e alcuni li sento anche molto tempo dopo, perché sono talmente forti che rimangono attaccati negli ambienti come solide ragnatele. E' troppo formale, deve essere più buttato via. Rendo l'idea? Averto, una presenza. Che cos'è? Quel canto infantile e quella villa laggiù. Lei è quello che ha visto tutto. Il super testimone oculare. Indicava con la mano un punto lì, circa metà della sesta o settima fila. Un uomo? Uno con un impermeabile scuro, subito dopo il delitto. Quello che vedi realmente è quello che immagini. si mischia nella memoria come un cocktail. Hai paura? Del quale tu non riesci più a distinguere i sapori. Diceva cose che non avevano senso. E la... morte! L'assassino è uno schizofrenico paranoico. Un mania. Chi te lo fa fare di cacciare il naso in questa storia? Nella vita quotidiana questa persona può parire normale. Non devo trovare questa. Stratto. Dimentica. E' troppo tardi. Ma infine vedrai che arriveranno a te. Ci puoi perdere anche la vita. E' troppo tardi. E' troppo tardi. E' troppo tardi. E' troppo tardi.